Nei giorni scorsi ho bombardato, attaccato duramente l'amministrazione comunale per il degrado in cui si trova la rampa Leonardo da Vinci, la zona attigua al circolo sott'ufficiale e che gode del favoloso affaccio al mare. C'era una sporcizia davvero immonda, qualcosa di incredibile, rifiuti di ogni genere e appunto cartacce e quant'altro. Non veniva eseguita la pulizia da messi. Ho dovuto alzare la voce, da consigliere comunale io mi faccio rispettare e pretendo i servizi per il cittadino ed ecco che magicamente per incanto dopo pochi giorni, forse un 2-3 giorni, immediatamente l'amministrazione comunale interviene e manda appunto la squadra degli addetti appunto alla pulizia che devo dire stanno in maniera egregia ripulendo tutta l'aria, tutta la rampa Leonardo da Vinci. Guardate lì, non solo si stanno limitando a tagliare le erbacce adiacenti al marciapiede e a rimuovere la sporcizia che era sul marciapiede, ma anche con il cestello stanno ripulendo le erbacce che erano cresciute lungo il muro. E allora come vedi caro Melucci, io politicamente ti devo bastonare per ottenere risultati? Io lo faccio perché ho la forza di 4200 elettori che mi hanno votato e che hanno riposto la fiducia in me. Beh, io penso che i miei elettori e i cittadini di Taranto siano così contenti del mio impegno. Continueranno questi miei bombardamenti, tra virgolette, finalizzati solo ad avere una città più vivibile.